Buongiorno a tutti voi, questa mattina di nuovo negli studi di RTTR per una nuova puntata di confronti, quindi parliamo come sempre di consiglio provinciale, di quello che è successo, di quello che sta succedendo e di quello che succederà e come sempre lo facciamo con due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione. Quindi iniziamo subito a presentarvi i nostri ospiti di oggi, buongiorno a David Moranduzzo, consigliere della Lega, grazie per essere qui e grazie per essere qui anche a Filippo De Gasperi, consigliere provinciale di Onda Civica. Buongiorno, grazie. Allora dicevamo quello che è successo, quello che succede e quello che succederà. Restiamo sulla strettissima attualità, la prima commissione ha licenziato l'assestamento di bilancio e allora parliamone un attimo in termini generali. Moranduzzo, da consigliere di maggioranza, la soddisfa? Assolutamente, stanno lavorando molto bene, io non sono in prima commissione, comunque mi sono informato e ho partecipato anche ad una riunione. Mi soddisfa perché in un momento difficile comunque la giunta provinciale, la giunta guidata dal presidente Moranduzzo Fugatti, è riuscita a mettere in campo 445 milioni di euro che sono molto importanti sia per la crescita, soprattutto per la crescita, perché l'aiuto che è stato dato in antecedenza maggio era un aiuto proprio per il Covid, dove erano stati investiti tantissimi soldi. Oggi come oggi la giunta provinciale, come dicevo prima, mette in campo 445 milioni di euro per aiutare le famiglie, per aiutare le aziende, come aveva già fatto in precedenza e soprattutto per partire con dei lavori pubblici che saranno molto importanti su tutto il territorio provinciale. Ecco, lei dice un intervento più organico rispetto agli aiuti a spot sull'emergenza. Assolutamente. Calcoliamo che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, c'è stato un 70% in più di risorse messe in campo proprio per aiutare, per far ripartire l'economia del nostro paese. De Gasperi? È una manovra direi abbastanza grigia, nel senso che non ci sono particolari spunti originali. Ci sono chiaramente risorse che, come da tradizione, vengono messe a disposizione dopo la chiusura del bilancio dell'anno precedente, sono circa 200 milioni. Ci sono 165 milioni di debito, quindi i Trentini sappiano che qualcuno poi una parte delle risorse che riceverà dovrà anche restituirle. Ci sono 60 milioni messi dalla regione, ma di fatto si va a colmare tutti quei capitoli, non tutti peraltro, molti dei capitoli che erano stati rasati all'inizio dell'anno appunto per causa dell'emergenza. Ecco, quindi si va a sistemare qualche toppa, ma di innovativo non c'è praticamente nulla. Si parla di lavori pubblici e sono due anni che si parla di lavori pubblici, però questi lavori pubblici appunto se ne parla solo, ma poi di farli partire non si è vista nessuna traccia. Per esempio l'anno scorso si parlava di 177 cantieri che avrebbero dovuto essere inaugurati di lì a poco. Abbiamo chiesto l'elenco, è passato un anno e più e appunto l'elenco non è arrivato, probabilmente perché sono gli stessi che rimettono in circolo quest'anno con la consueta propaganda. Quindi propaganda ce n'è parecchia, di sostanza ce n'è gran poca. Andiamo appunto a rattoppare qua e là il bilancio che è stato falcidiato prima da Vaia e poi dalla questione Covid e devo dire anche dal calo dell'economia perché nel 2019, quindi ante Covid, nel 2019 il Trentino ha segnato una battuta d'arresto. Evidentemente le politiche economiche portate avanti non sono state così brillanti e così anticicliche. Quindi anche in conseguenza di questo le risorse sono calate. Quindi in qualche modo si cerca di rattoppare, ripeto, facendo anche parecchio debito. Le manovre le misuriamo l'anno successivo per la loro efficacia. Quella dell'anno precedente direi che possiamo anche bocciarla, visto che l'ha bocciata il mercato, visti appunto i risultati sull'andamento del PIL. Moranduzzo, vista l'introduzione che ha fatto prima, immagino che la sua visione sia diametralmente opposta. È chiaro, abbiamo una visione diversa. Noi abbiamo una visione di governo, sicuramente De Gasperi ha una visione di opposizione, per cui è automaticamente difficile che ci troviamo d'accordo su queste cose. È anche vero, è anche vero dove lui dice che siamo in campagna elettorale, diciamo chiaramente che anche De Gasperi oggi è in campagna elettorale, candida come il senaco di Trento per il suo movimento. Per cui questo sa significare che chiaramente lui la vede in un'altra maniera, avrà un altro tipo di elettorato a cui rispondere, noi invece rispondiamo con i fatti in un momento difficile, chiaro. Abbiamo avuto anche il problema di Vaia, ci siamo trovati in difficoltà lì, oggi ci troviamo in difficoltà come tutte le altre province, regioni a livello nazionale perché c'è stato il problema del Covid-19. Essere in maggioranza significa anche essere responsabili di quello che si fa e di quello che si dice. Noi stiamo cercando di dare il massimo, abbiamo lavorato io credo benissimo e stiamo lavorando per il futuro per far ripartire l'economia del nostro paese. Oggi come oggi si parla di un debito lasciato di 100 milioni di euro, è anche vero che per far ripartire l'economia dobbiamo trovare delle soluzioni e da qualche parte dobbiamo trovare i soldi per andare avanti, per aiutare la nostra azienda e le nostre famiglie come dicevo prima. Oggi come oggi è giusto dire che un'amministrazione provinciale che è riuscita ad affrontare due grandi problematiche è sicuramente una cosa importante e una cosa anche da dire grazie al Presidente per aver fatto tutto ciò. Senta, parlava prima di opere pubbliche, so che ce n'è una che le sta particolarmente a cuore per quanto riguarda le ultime novità. L'opera pubblica quella che è stata inserita nel DPS che è un'opera importante per la città per cui è un collegamento dal Bermax a Spinni di Gardolo, ci sarà una nuova strada che porterà e attraverserà comunque la zona industriale senza far aspettare le persone con 20 minuti di coda in via Bolzano per poter entrare nella zona industriale di Spinni di Gardolo. Questa è stata un'opera comunque convincente, un'opera che serviva, un'opera che era richiesta da anni dalla circostazione ma anche dallo stesso comune e siamo riusciti a concluderla mettendola dentro nel DPS per cui già una manovra importante che verrà attuata poi, partiranno ovviamente i vari lavori qua da adesso in poi e cercheremo di portarla a termine per la fine del mandato. De Gasperi sulle opere pubbliche ha già detto qualcosa prima, c'è un altro dettaglio su cui si vuole concentrare. Siccome si parla di fatti noi appunto ci siamo sempre riferiti ai fatti però appunto finora abbiamo sentito solo parole perché anche dell'opera diciamo di cui stiamo parlando sicuramente importante per quel contesto ma che di certo non cambia la strategia della mobilità in provincia di Trento ecco l'abbiamo già votata, l'abbiamo approvata quindi rimane solo da fare era nell'elenco delle 177 opere che erano state indicate già nella primavera del 2019, siamo nel luglio del 2020 e ancora siamo a parlare di cantieri come dire da aprire ecco quindi di fatto noi sulle opere pubbliche abbiamo trascorso due anni a raccontarci la storiella e a passarci elenchi di opere da fare ma che di fatto non sono mai partite. Quindi certo noi siamo assolutamente convinti che ci sia bisogno di una rinfrescata a livello infrastrutturale magari andando oltre la rotatoria del Bermax pensando per esempio alle infrastrutture ferroviarie per le quali la provincia addirittura è riuscita a spostare di tre anni un progetto che aveva già avviato RFI perché RFI aveva previsto di elettrificare la linea della Valsugana trasformandola in una metropolitana di fatto effettiva con cadenze, con velocità e anche con qualità molto diversa rispetto a quella di oggi aveva preventivato di terminare per il 2023 con l'arrivo della giunta Fugatti quest'opera è stata spostata al 2026 e sono 60 milioni di euro quindi di fatto quasi l'intera somma sono 70 milioni che vengono messe a disposizione per le opere pubbliche con questa manovra quindi una cifra analoga è stata spostata di tre anni mentre questo bisogna riconoscerlo il Veneto lavora perché il Veneto sulla elettrificazione della Valsugana sul miglioramento della linea sta lavorando hanno già iniziato ad abbassare i piani delle gallerie proprio per arrivare all'elettrificazione della loro parte noi invece abbiamo spostato di tre anni e sono appunto a 60 milioni di euro per non parlare delle altre opere ferroviarie che io penso sarebbero la vera svolta nella mobilità del Trentino e visto che è stata ricordata anche la mia candidatura al sindaco di Trento per trasformare Trento in un perno dove le persone non possono arrivare solo con l'automezzo privato abbiamo la fortuna di avere un'infrastruttura come la linea della Valsugana e la linea della Trento Malè dovremmo in qualche modo integrarle con anche il ragionamento sull'interramento della linea del Brennero quello potrebbe diventare la connessione fra nord e sud ferroviaria peccato che di queste cose qui non se ne parla troppo ma di fatti non se ne vedono anche sull'interramento della linea del Brennero protocolli, riunioni, tavoli e di fatto mentre a Bolzano lavorano, scavano e progettano noi siamo ancora appunto agli acquerelli Moranduzzo, direi a questo punto che potremmo fare un passo indietro e andare a parlare di un'altra legge che è passata in consiglio provinciale per quanto riguarda le chiusure domenichiali e festive di negozi e supermercati una legge che sta ancora facendo discutere, perché l'avete portata avanti anche con così tanta fretta? Allora diciamola tutta, 18 domeniche saranno comunque aperte e i commercianti che oggi ha un'attività commerciale potranno lavorare comunque a prescindere è anche vero che è giusto che la domenica comunque viviamo in un territorio che è bellissimo ci sono laghi, ci sono montagne, è molto molto bello il nostro territorio ed è giusto anche che le persone che oggi la domenica devono lavorare e devono lavorare tutte le domeniche, è giusto che abbiano la possibilità anche loro di poter vivere sul nostro territorio e girare il nostro territorio Io ho lavorato nel commercio per quasi 20 anni e so quanto è dura lavorare la domenica e quanto è difficile fare le cose che si fa la domenica durante la settimana spesso mi capitava di essere invitato magari ad andare al lago, ad andare in montagna a fare una passeggiata in montagna, io dovevo rispondere a queste persone dicendo no, possiamo farlo lunedì, ma lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, lavorano tutti per cui credo che sia giusto comunque vivere la domenica sfruttando la possibilità di poter girare su tutto il territorio trentino e cercare in qualche maniera di fare altro invece che lavorare tutte le domeniche è una cosa che è stata richiesta da tutti quei commessi, da tutte quelle persone che comunque lavorano nei negozi che ahimè anche durante il periodo del covid comunque hanno lavorato anche più ore e in maniera molto continuativa senza fermarsi magari neanche un giorno credo che comunque lavorare un giorno di più durante la settimana non è come lavorare la domenica per cui credo che la scelta di Failoni di prendere questa decisione una decisione responsabile è una cosa molto molto buona e la condivido De Gasperi, sull'impianto generale? Diciamo che su quello non posso che essere d'accordo visto che di fatto è la fotocopia di una proposta di legge che avevamo fatto noi nella scorsa legislatura che a mia volta avevo recuperato dal fluo di Venezia Giulia quindi di fatto si tratta di una riproposizione della legge Serracchiani quindi da un punto di vista del principio io sono d'accordo infatti la legge l'ho votata perché ritengo che la giungla in cui ci aveva portato peraltro il centro-destra perché il primo a sperimentare le domeniche libere per tutti era stato proprio l'ultimo governo Berlusconi si vede che poi evidentemente si sono ravveduti andava in qualche modo corretto io penso che la legge della giungla sia una strada che va assolutamente evitata e se si inizia a percorrere si debba fare marcia indietro perché nella legge della giungla di fatto il più grande si mangia il più piccolo ed è proprio quello che è successo con la liberalizzazione totale anzi direi con l'anarchia sono spariti i piccoli negozi che hanno sofferto la concorrenza delle grandi catene che naturalmente hanno possibilità di organizzare di far ruotare il personale in una maniera molto più efficiente da questo punto di vista mentre i piccoli negozi a gestione familiare si trovano chiaramente all'angolo quindi da un punto di vista generale io sono assolutamente d'accordo quello che purtroppo è mancato è l'evoluzione rispetto alla legge Serracchiani e alle prese di posizione della Corte Costituzionale quindi di fatto andremo nuovamente a scontrarci con la Corte Costituzionale esattamente come ha fatto il Friuli Venezia Giulia invece io avrei tenuto conto delle indicazioni che aveva dato la Corte per esempio la Corte ha indicato chiaramente che è incostituzionale dividere fra centri turistici e centri non turistici perché di fatto discrimina tra i commercianti e questo io l'avrei superato ovvero avrei concordato con le categorie un numero di festività da tenere aperto che riguardino sia le località che oggi vengono considerate turistiche anche perché penso che qualunque centro trentino anche il più frequentato da ospiti abbia delle stagioni morte in cui non è assolutamente necessario che i negozi rimangano aperti quindi lasciare aperto sempre nei centri turistici e le solo 18 domeniche in centri che la Giunta Provinciale secondo i suoi criteri ha indicato anche centri dove di fatto non esiste nemmeno un negozio è una criticità che secondo me andava superata appunto con il ragionamento confrontandosi con categorie e con Corte Costituzionale penso che si possa comunque fare dei passi avanti ovvero questo è un inizio doveroso e da qui si parte per ragionare e migliorarla e secondo noi il primo passo da fare è quello di eliminare la discriminazione tra città turistiche e non turistiche Bronduzzo questo aveva fatto discutere soprattutto per quanto riguarda Trento il fatto che non fosse stato inserito il capoluogo in questo elenco di comuni ad alta intensità turistica assolutamente allora fa discutere abbiamo visto chi ha ovviamente chi ha cercato di farlo discutere che è stato l'assessore Stanchina dicendo anche che lui invitava comunque la polizia locale a non dare sanzioni è anche vero che si può sempre migliorare chiaro è anche vero che per conto mio è giusto comunque dare la possibilità a quelle zone turistiche di tenere aperto anche qualche domenica in più perché è giusto che comunque nelle zone turistiche ci sia la possibilità che se il tempo dovesse essere anche brutto e tutti i turisti possano entrare in un centro commerciale o in un negozio e passare la loro giornata a fare shopping così facciamo anche aumentare il giro dell'economia del nostro territorio è anche vero che sulla città di Trento non vedo un grosso problema nel senso la città di Trento quando una persona raggiunge la città di Trento c'ha i diversi musei da visitare c'ha una cattedrale che è veramente bella in centro città c'è da fare altro invece su certe zone turistiche ovviamente non c'è da fare altro e c'è esclusivamente da visitare il territorio magari le montagne i laghi allora a quel punto lì è giusto che possano andare tranquillamente anche in un centro commerciale o a fare acquisti nei vari negozi del paese per cui credo che c'è sempre da imparare c'è sempre anche da migliorare però a me sinceramente questa legge la legge failoni la ritengo molto valida e credo che abbia fatto una mossa eccellente vedremo poi insomma hanno detto che verrà fatto un tagliando alla legge a ottobre per capire come è andata e se c'è qualcosa da cambiare quindi insomma vedremo cosa succederà direi di fare ancora un passo ulteriore indietro a riscoprire un po' i mesi più acuti della pandemia anche per capire come l'avete vissuta voi da consigliari provinciali De Gasperi Preoccupato per il Trentino ho visto i risultati che sono stati raggiunti dalla nostra provincia che ricordiamolo nonostante le tante propagande sbandierate in televisione si piazza oggi al quarto posto in Italia per percentuale di deceduti sulla popolazione e per lunghe settimane è stata al primo posto quanto a percentuale di contagi rispetto al totale della popolazione quindi chiaramente un approccio che ha portato a questi risultati va assolutamente analizzato scandagliato per capirne le ragioni ho visto di recente l'iniziativa sull'RSA io non sono contrario a Priori perché tra le situazioni più critiche c'è stata proprio quella dell'RSA anche lì ci siamo trovati al vertice nazionale dei contagi allora far finta di nulla e dire che come sempre siamo i più bravi mi sembra poco rispettoso dei cittadini innanzitutto purtroppo i dati parlano chiaro non è che uno debba essere contento anzi sarei stato molto più sereno se il Trentino si fosse posizionato altrove in queste classifiche però questo deve essere senza voler demonizzare nessuno però deve essere motivo di approfondimento per capire cosa non ha funzionato dicevo sul fronte dell'RSA chiaramente qualcosa va fatto la proposta che ho visto in commissione naturalmente sempre con il metodo mi sarebbe da dire del blitz ricordiamolo però quella è la proposta perché la diamo per scontata prevedere che la parte sanitaria dell'RSA finisca sotto la guida dell'azienda sanitaria diciamo che è un passo su cui si può ragionare bisognerebbe però tener conto che ci sono anche APSP RSA che si sono comportate molto bene quindi il rischio è di fare di tutta un'erba un fascio io invece sarei andato puntualmente a verificare come abbiamo fatto peraltro con interrogazioni a cui stranamente l'assessorato ci ha risposto che va tutto bene quindi ci risulta poi questa contraddizione tra il tutto bene e il fatto che si intervenga in maniera così muscolare comunque sarei andato puntualmente a verificare quelle situazioni in cui ci sono stati i problemi maggiori entrare a gamba tesa in questo modo è chiaro che dall'altra parte provoca un irrigidimento perché appunto c'è anche chi si è comportato bene c'è anche chi ha provato ed è riuscito a tutelare i propri ospiti e quindi questo andrebbe riconosciuto Moranduzzo abbiamo un minuto ancora il suo bilancio immagino che sia drasticamente diverso abbiamo lavorato bene abbiamo lavorato bene noi come consiglieri che siamo stati il tramite tra cittadini e la giunta provinciale quello che hanno fatto comunque anche l'opposizione per cui sicuramente le chiamate che ho ricevuto io le ha ricevute anche De Gasperi e anche qualcun altro la giunta ha lavorato bene pensando che comunque era una situazione che nessuno si aspettava io non ho mai criticato nessun altro presidente di provincia o di regione in giro per l'Italia né se fosse del PD né se fosse di un altro partito ho sempre detto ci troviamo in una situazione che non era mai accaduta e credo che quello che si poteva fare si poteva fare magari qualche errore c'è stato inizialmente perché comunque non si sapeva in che situazione ci trovevamo poi dopo il presidente Fugatti come l'assessore segnana per conto mio hanno lavorato molto bene sono sempre stati presenti hanno dato un sostegno morale altissimo a tutti i cittadini trentini e sono anche riconoscenti perché quando noi li incontriamo per strada ci dicono bravi avete lavorato bene per cui credo che di più di così non si poteva fare si parla che il Trentino ha avuto più decessi noi parliamo che il Trentino ha fatto più tamponi no più tamponi di tutte le altre questa è una bugia quindi per favore il Trentino ha iniziato a fare più tamponi quando hanno finito di farli gli altri attenzione perché in aprile io non l'ho disolvata io ho un minuto di tempo però le bugie non si raccontano in marzo e in aprile il Trentino non faceva tamponi perché il presidente aveva detto che era inutile no questo è falso questo è il metodo di discussione dei consiglieri d'opposizione il vostro metodo invece è quello di raccontare bugie ai Trentini racconti la verità in marzo e in aprile il Trentino non ha fatto tamponi io mi blocco ecco meglio se vuole parlare di gas parlo io in marzo e in aprile il Trentino non ha fatto tamponi perché erano ritenuti inutili i tamponi ha cominciato a farli quando gli altri hanno smesso di farli questa è la minoranza che abbiamo in consiglio provinciale queste sono le balle che raccontate ai Trentini queste sono le balle che raccontate ai Trentini queste sono le bugie che raccontate ai Trentini assolutamente altro che tamponi primi in Italia no per i tamponi perché i morti non si calcolano sulla base dei tamponi forse non viene una spiegata riprendiamo il finale del discorso possiamo finire possiamo finire con questo dico che comunque la giunta provinciale ha lavorato bene sono soddisfatto i cittadini sono soddisfatti bene allora direi che è finito il tempo a nostra disposizione vi ringraziamo per averci seguito ringraziamo il consigliere della lega David Moranduzzo e ringraziamo il consigliere di onda civica Filippo De Gasteri grazie a voi naturalmente e ci rivediamo la prossima settimana grazie a voi grazie a voi